La via Bagaini è una delle vie più importanti della città poiché connette Corso Moro, una volta Corso Roma, connette Corso Moro con la parte ovest e est della città, ma è soprattutto la via dei cinema, il cinema degli studenti pelandroni, che era il vecchio cinema centrale, e il Vittoria, che era il cinema d'elite. Perché Bagaini? Ma chi era Giovanni Bagaini? È stato uno degli uomini più importanti tra 800 e 900 della città di Varese, fondatore del quotidiano locale, la prealpina, nel 1888 e che nel 1891 trasformò poi in quotidiano. Sarebbe rimasto, sino all'avvento della fermarsi del fascismo, direttore ma longa manus, anima del quotidiano. Bagaini visse tra il 1865, cioè all'indomani del rafforzamento dell'unità d'Italia, e il 1940 non vide gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma subì fortemente le angherie della dittatura fascista. Bagaini è anche colui il quale capisce l'evoluzione della città tra 800 e 900, ed è uno dei sostenitori di un adeguamento da città di villa a città partantier, cioè a città nella quale convivono gli operai, i borghesi, ma anche i villeggianti. E in questo quadro è uno dei fautori, assieme ad altri maggiorenti varesini borghesi dell'epoca, è uno dei fautori della Costituzione della provincia di Varese, che nasce con un telegramma inviato il 6 dicembre 1926 al commissario prefettizio di Como a Varese, che statuiva l'inizio della provincia di Varese, provincia che sarebbe nata concretamente alla metà del 1927. Ma Bagaini è anche l'uomo che dà la dignità giornalistica alla cronaca della provincia e trasforma i fatti della provincia come un insieme di bottoni di un grande vestito, il vestito della quotidianità. Bagaini poi venne allontanato dal giornale, ma andava spesso nei vari bar del centro della città, dove la gente lo riconosceva e gli era vicina. Pensate che rinunciò alla liquidazione del giornale per avere in cambio tutte le annate del giornale che lui, dal 1888 in poi, aveva confezionato, perché era anche bravissimo nel confezionare, ma rigido un leone nei confronti della sua redazione e di quelli che lui chiamava i pelandroni della notizia copiata, cioè quelli che riportavano le notizie senza andare sul pezzo, andare sul luogo, senza fare cronaca dal vivo, ma facendo cronaca astratta, cronaca seduti in redazione. Ricordiamoci che la prealpina all'inizio ebbe una sede proprio in via Reynaldi, quella via Reynaldi che ci consente di parlare di una seconda via e di un secondo personaggio importante per la città. Reynaldi ha vissuto tra il 1839 e il 1910. A differenza di Bagaini è abbastanza sconosciuto e più, anche se è stato consigliere comunale e assessore e uno dei borghesi più agiati della città varesina tra 800 e 900. Era Garibaldino, seguace del cacciatore delle Alpi, fanatico di Giuseppe Garibaldi, divenne prima consigliere comunale in comune a Varese e poi assessore ai lavori pubblici. Fu indubbiamente uno dei borghesi più illuminati nel capire che bisognava trasformare una città che era un paesotto in qualcosa di moderno, dove moderno significava ferrovia, cioè unione con Milano, che già allora era uno dei centri vitali della appena nata unità italiana o poco nata unità italiana, ma significava anche tener conto della forza industriale che veniva ad aggiungersi a quella commerciale e tradizionale della città, cioè alle nuove figure sociali che necessitavano di aiuto. Non a caso lui creò un orfanotrofio in quella via Galli, che poi sarebbe diventata l'attuale via Reinaldi, orfanotrofio che si sarebbe trasformato in educandato. Venne dedicato a Vittorio Emanuele III, ma sotto il regime della Repubblica Sociale Italiana, il nome per ovvi motivi, visto che Vittorio Emanuele III aveva tradito Benito Mussolini secondo l'accezione fascista, venne poi cambiato in Reinaldi. Perché? Perché buona parte delle sue sostanze, con l'aiuto della moglie, ed erano molte non solo immobili, ma anche da Naro, le lasciò per costruire questo educandato che c'è ancora oggi, la cui funzione era quello di aiutare i giovani a raggiungere il sogno di saper leggere e scrivere e diventare liberi cittadini, cioè in grado di capire e di conoscere il modo di stare assieme. Reinaldi era indubbiamente un uomo, viene descritto come un uomo dal carattere abbastanza difficile. Fu assessore ai lavori pubblici e fu colui il quale modernizzò, cioè introdusse, il primo tentativo di piano regolatore della città per cercare di adattare la città alle nuove figure sociali, che non erano più solo, come ho detto prima, i bottegai, ma erano anche gli imprenditori, i piccoli artigiani e gli operai. E non dimentichiamo che sino agli sventramenti degli anni 20 del Novecento e che portarono alla fine di Piazza Porcari e alla nascita di Piazza Montegrappa, in centro a Varese, accanto ai palazzi lussuosi, vi erano anche le case operarie, vi era una, potremmo dire, commistione tra i diversi sociali che dominavano la città. Indubbiamente Carlo Reinaldi apparteneva al ceto più alto, il ceto agiato, il ceto che poi, col suo filantropismo, avrebbe trasformato la città in una città in divenire, dove l'uomo era cittadino e non più suddito.